Ben trovati dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana e in questo appuntamento, amici, è tempo di bilanci. Questo è il primo argomento. Infatti un anno di legislatura nel Consiglio regionale è presentato nell'occasione anche il nuovo portale di comunicazione in consiglio.it. Poi si parla della modifica allo statuto regionale. L'Aula approva un sottosegretario e sette membri dell'Ufficio della Presidenza del Consiglio. E poi il Corecom reinventa i programmi dell'accesso in Toscana con un progetto realizzato con la RAI regionale e l'Università degli Studi. Un primo anno intenso nel periodo difficile della pandemia, quello dell'Assemblea Legislativa Toscana, è stato illustrato martedì 19 ottobre dal Presidente Antonio Mazzeo e dai Vice Presidenti Stefano Scalamelli e Marco Casucci e dai Presidenti di Commissione durante una conferenza stampa nella quale è stato presentato anche il nuovo portale di comunicazione digitale del servizio al cittadino in consiglio.it. E quindi, come dicevamo, è stato anche il lavoro di 12 mesi di legislatura. I primi 12 mesi, 54, sono state le sedute dell'Assemblea Legislativa dal mese di ottobre del 2020 all'ottobre del 2021 con un tasso medio di presenza dei consiglieri del 96%. Tra gli atti trattati, 72 proposte di legge, 46 sono state votate e approvate. E poi le proposte di deliberazione sono state 131, di cui 130 sono state votate e 117 approvate. 414 le mozioni presentate, di cui 253 votate e 192 approvate. 115 le risoluzioni, 102 sono state votate e 55 approvate. 171 gli ordini del giorno, 98 sono state votate e 55 hanno avuto la maggioranza in aula. Le immagini che vediamo invece sono relative alla più recente seduta d'aula. L'ufficio di Presidenza dal 21 ottobre del 2020 ha tenuto 21 sedute telematiche e 10 in presenza. Tutte le commissioni del Consiglio regionale hanno svolto in totale 254 sedute. È stato un anno difficile, complicato per tante famiglie toscane, per tante imprese, ma io voglio ringraziare il lavoro di tutti i colleghi consiglieri regionali, dei colleghi membri dell'ufficio di Presidenza e capigruppo, perché abbiamo dimostrato tutti insieme senso di responsabilità in un tempo difficile. Abbiamo cercato di lavorare insieme per dare risposte, le migliori ai cittadini della Toscana. A volte forse non ci siamo riusciti, ma l'abbiamo fatto davvero sulle questioni principali, cercando di ascoltare tutte le voci, anche quelle più critiche, con un unico obiettivo, fare in modo che i cittadini potessero uscire velocemente da questa terribile pandemia. Ora abbiamo il compito di rilanciare, di rilanciare, cercando da subito di fare in modo che questa diventi davvero, e fino in fondo, la casa di tutti i toscani. Abbiamo investito tanto su un processo di apertura, di partecipazione, attraverso strumenti di digitalizzazione più evoluti. Io voglio ringraziare anche gli uffici, che in questi mesi di lavoro, anche a distanza, ci hanno supportato nel trovare le soluzioni migliori. Da ora ci sarà un nuovo sito, inconsiglio.it, in cui sarà possibile seguire, attraverso strumenti evoluti, l'iter delle nostre leggi, prendere pareri, sollecitazioni che arrivano dai cittadini. Consentitemi di ringraziare i presidenti delle commissioni. Non era facile lavorare a distanza. Come vedrete dai numeri, hanno prodotto un lavoro enorme e hanno dato ai cittadini tante risposte che ci attendevamo. Noi, come ufficio di presidenza, abbiamo provato, lì dove la Giunta non ce la faceva, anche a sostenere. Penso agli operatori della cultura, penso ai maestri di sci, penso a tante altre categorie che erano in difficoltà con nostre proposte di legge. Anche un minimo di sostegno. Ora dobbiamo guardare avanti, lanceremo quest'idea su cui stiamo lavorando, di fare una fotografia di quella che sarà la Toscana del 2050. La Toscana dei nostri figli, una terra aperta, accogliente, una terra che guardi al futuro senza subire i cambiamenti enormi che stiamo vivendo. È una sfida complicata, ma sono certo che con l'impegno di tutti i colleghi, e di tutte le colleghe saremo in grado di dare quelle risposte che oggi servono. Un anno particolare che è stato segnato dalla pandemia e quindi con delle modalità particolari di svolgimento dei lavori. Quello che anche nell'ultimo ufficio di presidenza ho spiegato, trovando una sensibilità per altro comune, è quello che si svolga sempre più in presenza il lavoro. Questo è fondamentale, con tutte le norme che devono essere osservate. Questi sono segnali importanti, di ritorno un po' alla normalità quale tutti noi auspichiamo. Di certo c'è stato un tentativo continuo di parlarci, di confronto, per rendere sempre più trasparente, aperta, diciamo questa che è praticamente il cuore della regione toscana, per far sì che i cittadini toscani possano essere finalmente debitamente informati di quelle nostre attività. Quella digitalizzazione e quella trasparenza necessaria per far sì che tutto si svolga veramente in modo chiaro. Questo è l'auspicio che vogliamo noi, quello di poter continuare a fare anche pagine come quella della consegna della Costituzione ai ragazzi. La Costituzione Repubblicana va letta, va conosciuta, partendo dalle scuole. Abbiamo fatto dei momenti importanti di condivisione. Auspichiamo che vi sia sempre più lavoro anche per salvaguardare pienamente i diritti delle opposizioni e questo è fondamentale proprio perché tutto si deve svolgere secondo quello che è la nostra tradizione repubblicana e democratica. Un bilancio di un anno importante va dato merito all'attività dei colleghi, in particolar modo del Presidente e di tutti i gruppi consigliari, che non ha mai interrotto la propria attività. Era un esempio, un dovere che dovevamo, un anno difficile, quello della pandemia che terminava e che doveva rilanciare questa azione di contrasto alla pandemia nel frattempo non poteva interrompersi l'attività di sostegno e supporto al lavoro della nostra Giunta regionale, iniziative legislative e credo che si sia contraddistinto con un anno di buona collaborazione, con uno spirito che vedo cresciuto rispetto all'esperienza che ho vissuto in passato di collaborazione fra gruppi consigliari. Quindi io credo che ci sia stato anche una forma di crescita, fondamentalmente di collaborazione, nel distingo dei ruoli. Quindi un anno positivo che ha visto dei passaggi importanti. Penso innanzitutto il sostegno all'attività di vaccinazione, l'importanza e il sostegno al nostro Presidente e nel contempo un anno che ha visto iniziare degli itali legislativi importanti e quindi credo che questo sia stato l'elemento più importante di un'assemblea legislativa come la nostra che non poteva fermarsi, non si è fermata, ha dato questo esempio e credo che sia corretto proseguire in questa direzione. E torniamo invece all'interno del Consiglio regionale con la proposta di legge di modifica dello Statuto della Regione Toscana e l'emendamento del Presidente della Giunta Eugenio Gianni. Così si apre senza illustrazione dell'atto. L'assessore Stefano Cioffo, presente alla seduta, sceglie di non presentare il testo e il dibattito si apre non senza alcuna critica della minoranza che hanno chiesto rispetto per il Consiglio e il rinvio della discussione, vista l'assenza giustificata del dovenatore che era impegnato a Bruxelles. Al termine del lungo dibattito, che da regolamento vicente, come spiegato dal Presidente Antonio Mazzeo, che pur si era offerto di leggere il testo della proposta di legge, può avvenire senza l'illustrazione. L'Aula quindi ha approvato l'atto con 30 voti a favore, un voto contrario a quello di Italia Viva e la non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle. Ritengo che siamo approdati ad una soluzione che raccogliendo la proposta fatta dal Presidente della Giunta di poter avere delle figure, i sottosegretari, e lì era previsto anche l'ampliamento della Giunta di un nono assessore per poter lavorare di più e meglio, abbiamo rielaborato questa proposta approdando a quella che ha trovato un vasto consenso, perché quando si vanno a cambiare le regole, in questo caso lo Statuto della Regione Toscana, è buona prassi, è buona norma ricercare il massimo della condivisione. Il massimo della condivisione è stato trovato appunto su una soluzione minimale, che è quella della previsione di un sottosegretario che può partecipare ai lavori della Giunta senza avere diritto di voto, scelto tra i consiglieri, quindi senza nessun aumento di costi per quanto riguarda le indennità, e su questo c'è stata un'ampia convergenza, come abbiamo visto in Consiglio. La nostra è stata una posizione di contrarietà, l'unica del Consiglio regionale, perché riteniamo inconcepibile il fatto che in 51 anni di storia della Regione Toscana dopo 15 modifiche dello Statuto si arrivì per la prima volta nella storia a modificare quella che di fatto è la Costituzione dei cittadini toscani senza un approfondimento, senza un passaggio di commissione, senza dei passaggi che avrebbero potuto consentire un miglioramento di quella riforma, che noi abbiamo contestato dall'inizio, che poi di fatto il Consiglio ha preso atto delle nostre proposte, ma riteniamo che nel metodo e nella forma ci sia stato un grande errore di arrivare a modificare una legge così importante senza la condivisione di un percorso che avrebbe migliorato quel testo. È evidente che aumentare oggi le poltrone per i politici non serviva a nessuno. Noi ci siamo candidati un anno fa esclusivamente sapendo che si eleggeva un Presidente che poteva nominare 8 assessori, 40 erano consiglieri, queste erano le regole di ingaggio, quindi noi siamo rimasti fedeli all'impegno presi con i cittadini toscani e io sono orgoglioso di essere stato l'unico a aver votato contro questo Statuto nel rispetto degli impegni assunti un anno fa in campagna elettorale con i cittadini toscani ho avuto il coraggio e la fermezza di difendere le mie idee al cospetto di un Consiglio che poi legittimamente ha scelto di andare verso un'altra strada, ma io confermo la mia contrarietà in questa prima lettura, daremo battaglia da qui alla seconda lettura che sarà fra due mesi e continueremo a tenere ferma la nostra posizione. Ma c'è da dire che il testo da come usciva di giunta è stato totalmente stravolto. Noi avevamo detto fin da subito che non avremmo accettato né il non assessore né due sottosegretari esterni perché avrebbe comportato un costo della politica che poi sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini. Questo per noi era inaccettabile. Quindi l'abbiamo detto da subito e effettivamente il PD, il Consiglio regionale è venuto sulle posizioni che noi dicevamo quindi siamo scesi comunque a trovare una soluzione che effettivamente è una soluzione che per noi era percorribile era quella comunque di un riassetto interno a costo zero. Quindi io credo che si sia potenziato l'ufficio di presidenza dando la possibilità anche all'opposizione di avere una persona in più a vigilare su tutto quello che da lì dentro passa ed è anche questo senza costi aggiuntivi e quindi abbiamo pensato che fosse opportuno riconoscere che il Consiglio ha fatto uno sforzo rispetto alla giunta. Certo quello che c'è da evidenziare è che in maggioranza non possono dire lo stesso qualche problema l'hanno avuto abbiamo visto il Presidente di Commissione che poi era quello che doveva fare il non assessore all'inizio della legislatura andarsene arrabbiato decidendo di non votare abbiamo visto Italia Viva che si è spaccata e che ha riproposto di nuovo i due sottosegretari esterni quindi con un costo che sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini quindi la maggioranza non può star proprio serena anche perché mi sembra di capire che la giunta abbia portato un testo di cui Gianni era molto convinto che infatti non è nemmeno stato illustrato in aula ma che poi il Consiglio glielo abbia stravolto io spero che la giunta abbia capito che il potere legislativo spetta il Consiglio e che alcune proposte forse è meglio discuterle prima con i consiglieri noi abbiamo sempre sostenuto fin dall'inizio quando ci era stato proposto nove assessori e due sottosegretari esterni che non era la riforma che serviva alla Regione Toscana semplicemente perché avrebbe aumentato i costi abbiamo detto sì a una rimodulazione che consentisse al Consiglio regionale di lavorare meglio alla giunta di lavorare meglio a patto che non vi fosse aumento di costi ecco perché abbiamo sostenuto la riforma di modifica dello statuto che prevede un sottosegretario interno e quindi non una persona presa da fuori senza una spesa ulteriore e sì all'allargamento dell'ufficio di presidenza perché prevede una rappresentanza maggiore all'interno dell'ufficio di presidenza di tutte le forze politiche naturalmente senza aumento di costo abbiamo visto una modifica dello statuto proposta dal presidente della giunta e il presidente della giunta era assente il presidente della prima commissione competente per materia non ha votato e l'ha definito sui giornali una proposta da affossare il vice presidente del consiglio regionale di maggioranza ha detto che questa legge ha subito un percorso anomalo quindi queste sono le premesse con le quali la maggioranza è arrivata in aula per quanto mi riguarda noi come Fratelli d'Italia avevamo soltanto un obiettivo che le modifiche venissero fatte nell'interesse primo del consiglio regionale e l'allargamento dell'ufficio di presidenza sicuramente è in questa direzione cioè tutela maggiormente il consiglio due a costo zero le forme sono state fatte a costo zero senza gravare un euro sulla tasca sulle tasche dei cittadini toscani e questo è l'obiettivo conseguito in uno dei momenti più difficili della storia della Toscana dalla sua nascita dal 1970 assistiamo a un dibattito surreale fuori tempo e soprattutto irricevibile riguardo l'aumento del poltrone perché di questo di fatto si tratta sottosegretario ufficio di presidenza tutti aspetti che se già normalmente indignerebbero probabilmente i cittadini perché ci si aspetta che il parlamentino toscano e la giunta gli amministratori si occupino di altro in questo momento scandalizza particolarmente nel pieno di un momento in cui l'intera sanità si sta rivoltando contro la giunta per i tagli che sono stati fatti e per la situazione drammatica in cui si lavora questo consiglio sta lavorando a un aumento dei sottosegretari a detta loro in varianza di costi e degli uffici di presidenza di cui francamente non se ne avverte il bisogno e per fare tutto questo si è sottratto un anno di lavoro probabilmente a tante cose ben più urgenti le scuole la mancanza continua di aule i problemi della sanità i problemi infrastrutturali molti altri problemi e cosa più grave di tutte per la prima volta dal 1970 una riforma statutaria non viene presentata dal suo proponente dal presidente della giunta che oggi si trova per altri affari a Bruxelles e viene difesa dalla sua maggioranza in consiglio trasformare i programmi dell'accesso in Toscana rendendo lo spazio a disposizione più dinamico e comunicativo è questo il progetto che il Corecom ha realizzato insieme alla RAI regionale al Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Firenze per il rilancio degli spazi a disposizione di soggetti collettivi sui canali di servizio pubblico e sono già 13 video prodotti in questa prima fase dell'accordo di collaborazione nel 1975 per la riforma della RAI furono programmate questa esperienza molto bella di affidare a associazioni sindacati movimenti pacifisti religiosi uno spazio pubblico per poter proporre le loro idee i loro programmi i loro progetti con passare degli anni questa opportunità si è via via svilita e oggi il programma dell'accesso è uno spazio a disposizione ma estremamente poco qualificante senza nessuna pill e soprattutto non è visto da nessuno allora con la RAI e con l'Università di Firenze abbiamo provato a mettere insieme questo spazio da parte della RAI ma anche l'esperienza di una dipartimento che studia la comunicazione per affidare ai ragazzi un'opportunità per costruire loro i programmi che le associazioni utilizzeranno per la loro comunicazione per cui dal prossimo mese i programmi dell'accesso saranno gestiti dall'università e tutti coloro che vorranno utilizzarlo potranno utilizzare questo spazio in un modo più dinamico più comunicativo e più performante ringrazio il presidente del Corecom Enzo Broggi per questa opportunità da quando sono diventato presidente del consiglio regionale ho sempre detto che questo deve diventare il luogo per dare voce a chi ha meno voce quindi bene che oggi ci sia un ulteriore passo avanti insieme all'Università di Firenze insieme alla RAI dare più spazio per quelle che sono le trasmissioni di accesso ai gruppi di consumatori alle associazioni per cercare di mandare messaggi più chiari migliori ai cittadini della nostra regione una democrazia funziona di più quando ognuno di noi è più consapevole di quello che ha di fronte di quello che può accadere quindi ogni qualvolta c'è uno spazio di democrazia in più io non posso che essere contento e quindi ringrazio ancora il presidente Broggi per l'ottimo lavoro che sta svolgendo ringrazio l'Università di Firenze e la RAI per questa nuova importante opportunità ed è tutto per questo appuntamento con Dentro il Consiglio vi ricordo per ogni delucidazione informazione per essere sempre informati www.consiglio.regione.toscana.it e da lì trovate anche il nuovo link al portale proprio attivato di recente in consiglio.it io vi aspetto qua come sempre tra sette giorni Dentro il Consiglio che ci sono Grazie a tutti.